Il Palazzo dei Congressi di Pisa diventa aula giudiziaria per l'avvio del processo ai danni della Stella Maris per i casi di maltrattamenti all'interno della struttura di Fauglia. Quattro anni di attesa per le famiglie degli ospiti che con le loro denunce fecero venire a galla gli abusi ai danni dei disabili. Abbiamo aspettato tanto e oggi veramente anche il caso di ringraziare tutti quelli che si sono adoperati per lo spostamento di sede di questo processo che consentirà a tutti di poter partecipare perché noi genitori ci tenevamo particolarmente anche in modo simbolico a fare la nostra presenza ad ogni fase del processo. Manovre restrittive e troppo energiche, figli e fratelli che mostravano lividi, così è cominciata l'indagine portata avanti dai carabinieri che con le loro telecamere hanno immortalato gli abusi filmati che presto verranno mostrati in aula. Verrà il nostro momento, momenti in cui dovremmo purtroppo vedere video, momenti pesanti, però ci sono delle fasi che comunque tutto quello che accade in questo processo a noi ci riguarda, ci riguarda molto da vicino e ci tenevamo proprio ad essere presenti. Un processo atteso da anni alle famiglie degli ospiti della struttura di Fauglia e nel quale la Stella Marisi si trova nella curiosa posizione di essere sia imputato che parte civile. Udienza tecnica, si discute la lista di testimoni e tutti i familiari vorranno deporre, poi si passa all'individuazione dei periti che lavoreranno sulle intercettazioni. Qualcuno dice il più grande processo sulla disabilità in Italia, sicuramente lo è per i numeri. Ogni volta è un grande dolore ogni volta che siamo qui, ma vogliamo essere sempre presenti, almeno una rappresentanza di noi, tutte le volte nonostante il Covid.